E a Montecchio Maggiore, l'europarlamentare Magdi Cristiano Allam, ospite di un incontro organizzato dal Centro Culturale e Progetto Domani, per parlare delle tensioni nei paesi arabi e delle possibili ripercussioni di questo su tutta l'Europa. Magdi Cristiano Allam, Montecchio Maggiore, uno dei massimi esponenti dei problemi medio orientali. Questa sera in un convegno si parlerà di primavera araba, ma anche di quello che è stato definito l'autunno arabo dei colpi di Stato, di quello che è cambiato e delle ripercussioni in Europa. L'Europa rischia molto perché se sull'altra sponda del Mediterraneo si afferma una realtà dove prevale il radicalismo islamico diventerà estremamente difficile riuscire a salvaguardare un rapporto di buon vicinato. Già oggi all'interno dell'Europa ci sono delle realtà preoccupanti per la presenza di comunità islamiche militanti che indubbiamente si sentirebbero rafforzate dall'avvento al potere sull'altra sponda del Mediterraneo di regimi islamici.